Sembra quasi un paradosso che la regione basilicata, con il suo immenso patrimonio di invasi e riserve d'acqua, debba vedere i propri agricoltori protestare per la carenza idrica. Così il capogruppo di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia, Gianni Rosa, commenta l'attuale crisi idrica che sta interessando le culture lucane. Nel raccogliere il grido d'allarme proveniente da associazioni e agricoltori che chiedono a gran voce una pianificazione dell'erogazione idrica da congordare con le rappresentanze territoriali, Rosa denuncia l'immobilismo della giunta regionale di fronte all'attuale emergenza. Le rassicurazioni del presidente Pittella e degli assessori all'agricoltura e all'ambiente sulla capacità degli invasi idrici lucani, dice l'esponente di Fratelli d'Italia, si sono rivelate solo parole. Nulla è stato fatto per alleviare il problema. Anzi, le modalità con le quali viene erogata l'acqua, del tutto slegate dal tipo di culture impiantate, non fanno che compromettere ulteriormente gli agricoltori. Ognuno, chiosa rosa, si assuma le proprie responsabilità. Non è sempre colpa del Padre Eterno che non fa piovere.